Il lavoro mio è così bello perché lo faccio io, è come un iutaio che fa il suo violino, se glielo fa uno a Silicon Valley che gusto c'è, che ci mette 5 minuti, ho capito io, ma poi non è lo stesso violino, non ci hai messo quella fatica, quell'estro, l'esperienza, perché magari lo fai 3 centinaio di più grande, usi un legno che non può essere ripetabile, sono tutti dello stesso legno ma nessuno dello stesso legno, è bello per questo, e il suono non è replicabile e qualsiasi persona che abbia orecchio sa che differenza c'è tra un guarniere del Gesù e un altro strumento, non occorre essere solo dei grandissimi violinisti, basta aver essersi applicati, aver sentito tanta musica, lo senti, è la diversità, perché non cercate la diversità? Ma noi lo siamo comunque, siamo unici, siamo unici, mi dà fastidio, a meno, mi dà fastidio, a meno, a meno. Ma scena, ma scena, ma scena. Ma scena, ma scena. Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti